parlo di questa bambina sette anni facciamo un omaggio all'amicizia stazione di burdina 1022 romani in fila riccardo parrucci fulvio contrasto diciamo francisci stefano dracone frank riflessione di un cristiano che è stato è stato ormai non conta niente di certo è morta troppa gente vecchi giovani creature quante quali le paure io io sono stato fortunato non era ancora nato ma mia madre ve l'ha detto quello che è successo al ghetto lì ci aveva tanti amici deportati dai nemici ricordamolo per sempre questo giorno mai lontano che ogni morto come noi eredè un essere umano la bambina si chiama franca spizzichino sette anni deportata da auspiz insieme alla sua famiglia donne e bambini furono quelli uccisi per prima noi abbiamo fatto un omaggio all'amicizia a una bambina di soli sette anni